L'associazione consumatori Robin Hood assegna la maglia nera alla regione Abruzzo per essere l'unica a livello nazionale a distoglio di fondi raccolti nel settore della micologia per destinarli ad altre attività della regione. La normativa sulla raccolta dei funghi era nata nel 2006 sulla spinta delle associazioni di categoria per regolamentarne un settore importante che vede oltre 100.000 appassionati in Abruzzo, utile a garantire livelli minimi di conoscenza al fine della tutela della salute pubblica e i fondi derivanti da questo settore venivano usati per iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente e al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica. Questa normativa stabilisce alcune cose importanti sotto il profilo sanitario, il fatto che le persone che vanno a funghi devono avere le conoscenze di base per la raccolta dei funghi e quindi devono frequentare dei corsi obbligatori. Chiedeva un contributo di carattere annuale per quanto riguarda l'autorizzazione per la raccolta dei funghi ed era previsto anche un tesserino che veniva rilasciato dalle province dove in pratica veniva riassunta la posizione del singolo fungaiolo. Ma nel 2020 la regione ha deciso di prendere tutti i fondi derivanti dal settore della micologia e destinarli al risarcimento per i danni causati dalla fauna selvatica. Noi riteniamo che sia oltre un milione di euro il gettito che la regione assume. Invece di destinarli, così come era stato previsto nell'originaria legge, alla salvaguarda dell'ambiente, alla formazione di coloro che devono andare a raccolta dei funghi e alla stampa di materiali informativi, è stato destinato così d'amblè al risarcimento dei danni da cinghiale. Ora, è un unicum nazionale perché in tutte le altre regioni dove esistono leggi per quanto riguarda la raccolta dei funghi, i soldi che si vengono raccolti da quel settore rimangono in quel settore. Una vicenda su cui l'Associazione dei Consumatori, che si è fatta portafoce di questa problematica, chiede una nuova legge regionale, essenziale al regolamentare, tutelare e semplificare questo settore. Secondo noi va inquadratta tutta questa problematica, una nuova legge che prende spunto dalle regioni più evolute rispetto alla materia, dove si paga di più però uno è libero di andare dove vuole.